riproduzione mp3 cavetto audio in ingresso bf l'uscita della nostra trasmittente è collegata all'antenna ground plane che è qui fuori installazione volante ho utilizzato il piedistallo del tabellone da basket emittente broadcast accendiamo si ha mutolito forniamo il segnale in bassa frequenza vai ecco la nostra sigla è trasmessa questo video è sponsorizzato da jlc pcb un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati che con tariffe bassissime permette di ricevere pcb di ottima qualità in pochi giorni potrete ordinare al corso di soli due dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli due giorni ciao a tutti e benvenuti laboratorio come sempre prima di iniziare un saluto a tre nuovi sostenitori del programma patreon ciao e grazie a nico alfredo palla francesco gra e anche un ringraziamento a max da benevento un simpatizzante del canale veniamo al video di questa sera in ritratto abbiamo guglielmo marconi perché ci occuperemo di un trasmettitore radio in banda fm quindi 88 108 mhz è un oggetto molto simpatico si possono fare diversi sperimenti ovviamente stiamo attenti alla potenza perché come sapete il limite di potenza su quella banda visto che utilizzata per scopo civile è bassissimo chiaramente noi lo vediamo a livello di sperimentazione avremo uno schema molto classico a transistor e quindi con questo pretesto spiegheremo gli stadi dello schema lo metteremo in funzione e faremo delle prove pratiche e quindi buona visione ci siamo già occupati in passato di trasmissione ricezione radio in particolare il video 569 era un semplice ricevitore in modulazione di ampiezza onde medie am nel video 655 invece avevamo visto un semplice trasmettitore con l'utilizzo di un quarzo sempre in am nella gamma 10 megahertz questo è lo schema blocchi del nostro trasmettitore radio in fm schema elaborato da rosario ex progettista di nuova elettronica che saluto e ringrazio partendo dall'ingresso abbiamo un segnale in bassa frequenza che può essere una sorgente audio di livello line quindi piccolo livello l'uscita ad esempio di una scheda audio di un pc un lettore mp3 eccetera incontriamo un primo blocco di pre enfasi che modifica la composizione armonica di questo segnale per aumentare il rapporto segnale rumore infatti in genere per la trasmissione vengono esaltate le parti alte del segnale in frequenza in ricezione invece vengono diminuite questo segnale viene poi amplificato in bassa frequenza viene portato a un oscillatore a radiofrequenza che ha lo scopo di creare la portante e sempre in questo blocco si crea la modulazione di frequenza quindi lo spostamento della frequenza portante modulato appunto dal segnale in bassa frequenza in uscita da questo blocco abbiamo un amplificatore a larga banda prima di pilotare il finale a radiofrequenza e infine una rete di adattamento per far sì che l'impedenza di antenna sia coerente con l'impedenza di uscita di questo stadio in modo che la potenza venga trasferita in modo ottimale e non si creino riflessioni del segnale quindi un adattamento fra antenna e finale questo è lo schema elettrico dall'ingresso quindi notiamo la rete di pre enfasi costituito da questo gruppo rc 22k 2200 pico farad condensatore di disaccoppiamento entriamo nel primo stadio di amplificazione bf che è eseguita da questo q1 bc 547 polarizzato in questa maniera quindi l'alimentazione di tutto il circuito è a 12 volt in uscita sul collettore di questo transistor avremo un segnale amplificato il livello di amplificazione per ogni stadio è di circa 10 db riconosciamo in questo blocco con il transistor jfet q2 che è un j310 un oscillatore a schema colpiz con tutte le impedenze calibrate questo stadio ha il compito di creare la portante a radiofrequenza per la nostra trasmissione in fm per la regolazione di frequenza inizialmente abbiamo utilizzato questo c17 che è un compensatore che varia tra 6 e 35 pico farad poi nella versione del prototipo che vedremo dopo abbiamo sostituito la regolazione sulla dottanza quindi avremo un condensatore fisso e andremo ad agire sul nucleo dell'induttanza per far sì di variare la frequenza portante riconosciamo qui subito un diodo varicap che ci permette di creare la modulazione di frequenza difatti il segnale in bassa frequenza che arriva su questo nodo con la tensione che applica ai capi del diodo varicap farà sì di cambiare la capacità di questo diodo la quale appunto creerà la deviazione di frequenza di questo oscillatore quindi in assenza di segnale in bassa frequenza il nostro oscillatore libero genererà la portante che abbiamo impostato secondo la regolazione quando arriva un livello audio bassa frequenza il diodo varicap cambia la sua capacità e quindi la frequenza portante verrà spostata in alto e in basso secondo una deviazione che nel sistema fm broadcast è di 75 kilohertz verrà appunto spostata questa frequenza quindi all'uscita da questo stadio avremo il segnale modulato in frequenza in questo punto incontriamo un altro transistor jfet q3 che è sempre un j310 questo transistor al compito di fare da separatore quindi separare l'oscillatore libero dalla parte a valle di preamplificazione e amplificazione è fondamentale perché l'oscillatore libero lavora veramente con dei livelli di segnale molto esigui e quindi non dobbiamo assolutamente caricarlo quindi questo jfet farà vedere un'alta impedenza a questo oscillatore e avrà una bassa impedenza di uscita per poter pilotare di stadi a valle a seguire abbiamo un altro stadio amplificatore questa volta a larga banda realizzato con un transistor pn 23 69 a che ha caratteristiche in frequenza molto buone cioè il suo guadagno per banda è decisamente elevato dal collettore di questo transistor sempre tramite questo condensatore di disaccoppiamento finiamo su q5 che è un 2n 37 25 ed è il transistor pilota quindi l'ultimo stadio prima del finale abbiamo componenti sempre dimensionati per la frequenza che è decisamente elevata perché siamo appunto attorno a 100 megahertz e andiamo poi all'ultimo stadio che è il finale realizzato da q6 2n 44 27 questo transistor deve essere dissipato perché la potenza che questo prototipo è in grado di erogare si aggira attorno ai 700 800 millivatt ma poi vedremo che può arrivare anche più su senza grossi problemi infine abbiamo la rete di adattamento verso l'antenna l'antenna vedremo dopo è una ground plane che abbiamo dimensionato per avere un'impedenza caratteristica di 50 ohm tramite i compensatori c21 c28 e l'induttanza le 5 c32 avremo un match di impedenza appunto a 50 ohm per quanto riguarda l'alimentazione utilizziamo una 12 volt per alimentare il finale il pilota e l'amplificatore a larga banda invece per l'oscillatore utilizzeremo una 5 volt ricavata con un lm 7805 che ci fornirà una tensione sufficientemente pulita e comunque filtrata condensatore elettrolitico e il solito condensatore da 100 nfarad sul primo stadio di alimentazione in bassa frequenza invece avremo la 12 volt ecco il prototipo realizzato su basetta ramata con componenti tutti saldati uno a uno fondamentale perché a questa frequenza l'utilizzo di breadboard o comunque collegamenti lunghi è decisamente critico serve sicuramente un piano di massa e minimizzare tutti i componenti parassiti specialmente quelli di natura capacitiva l'ingresso della bassa frequenza avviene su questo jack audio i primi componenti rete di pre enfasi e primo stadio di amplificazione in bassa frequenza con il transistor che riconosciamo qua in package to 92 poi proseguiamo verso l'oscillatore dove riconosciamo questa bobina con nucleo variabile quindi andremo a inserire o disinserire questa barrettina inferrite all'interno del nucleo per modificare la frequenza portante questa è l'area dell'oscillatore libero riconosciamo i due jfet uno dell'oscillatore di colpiz e l'altro dello stadio separatore di odovaricap e tutti i componenti dell'oscillatore da qui in poi andiamo sullo stadio amplificatore a larga banda infatti questo è il pn 23 69 transistor npn subito dopo incontriamo il transistor pilota e il finale entrambi in case to 39 solo il finale deve essere dissipato notiamo qui tre bobine che sono realizzate in aria con filo un millimetro stagnato sono quattro spire diametro 6 mm lunghezza 10 mm ed infine l'ultimo stadio di uscita di adattamento di impedenza con i compensatori e il connettore bnc per collegare l'antenna abbiamo anche il filetto dove verrà fornita la 12 volt e il ground verrà preso direttamente sulla basetta ramata per la costruzione dell'antenna ci affidiamo a un libro sacro le antenne pubblicazione nuova elettronica quindi old school andiamo direttamente sulla pagina della ground plane che è un'antenna che ha lo stilo verticale di un quarto d'onda rispetto alla lunghezza d'onda che si vuole trasmettere e quattro steli orizzontali che possono essere inclinati più o meno per avere una certa impedenza di antenna quello che interessa a noi è avere circa 50 52 ohm in modo che possiamo collegare direttamente la nostra antenna con cavo coassiale 50 ohm e poi come abbiamo visto prima adattare il tutto appunto a 50 ohm per ottenere questo l'angolo che si deve creare è di 45 gradi rispetto alla verticale per quanto riguarda le lunghezze di questi elementi abbiamo le formule pratiche di nuova elettronica ma esistono anche molti calcolatori online praticissimi questo ad esempio è uno dei tanti siti con i calcoli online ho inserito la frequenza di 100 megahertz quindi centrale rispetto alla nostra banda fattore di velocità 0 95 era di default grandezza in metri il risultato è elemento radiante a questo qua verticale 0 71 metri invece i radiali questi qua che metteremo a 45 gradi 0,8 metri che ci ricorda che poi la lunghezza dell'onda intera è 3 metri appunto avendo assegnato 100 megahertz con una piccola spesa in ferramenta riusciamo a costruire i nostri elementi necessari all'antenna quindi il supporto con il connettore pl i quattro elementi radianti della lunghezza giusta qua ho posizionato i miei righelli in serie otteniamo degli elementi di lunghezza appunto 80 centimetri per i quattro radiali e di 70 per l'elemento centrale ho fissato i quattro radiali al supporto cavo rg 58 con connettore bnc lato trasmettitore e connettore pl lato antenna qualche ripresa in esterno dell'antenna girata beh non è proprio piccola però adesso troveremo un luogo adatto installazione volante ho utilizzato il piedistallo del tabellone da basket la cosa importante che i radiali non tocchino la struttura metallica del palo quindi è tutto perfettamente isolato ho collegato anche il cavo per la realizzazione dell'antenna ricordiamoci che l'alluminio va benissimo ma non deve essere anodizzato perché potrebbe essere isolante qua abbiamo bisogno di materiale conduttivo per sapere effettivamente quanto è lontana la nostra antenna da un'impedenza ideale di 50 ohm bisognerebbe fare delle misure con ad esempio il nano vna e sono misure interessanti con la carta di smith che abbiamo già visto in teoria magari ce l'otteniamo per un prossimo video perché potrebbe essere interessante fare proprio una caratterizzazione di diverse antenne è chiaro che se posizionarsi l'antenna sul tetto accanto alla mia cp6 diamond la verticale che uso per le onde corte la copertura sarebbe molto diversa ricordiamoci sempre che non dobbiamo superare i limiti perché questa banda è assolutamente riservata per tarare il trasmettitore è necessario operare sull'induttanza l1 che ci permette di impostare la frequenza portante e poi dobbiamo agire sui compensatori c 21 c 28 per far sì di raggiungere l'adattamento di impedenza a 50 ohm la taratura si può fare con strumenti complessi come l'analizzatore di spettro dove si possono vedere molte grandezze ma anche in maniera molto semplice utilizzando ad esempio una sonda di carico a radiofrequenza infatti il nostro trasmettitore non va mai lasciato in circuito aperto perché potrebbe danneggiarsi ha sempre bisogno di vedere il suo carico caratteristico quindi si può fare un semplice circuito in cui inseriamo ad esempio due resistenze da 100 ohm in parallelo che devono essere anti induttive perché a questa frequenza è fondamentale potenza almeno mezzo watt considerato il taglio di potenza di questo trasmettitore un diodo radirizzatore anche un 1n 4148 normalissimo va bene un po di capacità 100 nano basteranno e poi colleghiamo l'uscita al multimetro in continua quindi andremo ad agire sulle compensazioni per far sì di massimizzare il livello di tensione letta sul multimetro che poi significa che abbiamo raggiunto l'adattamento fra lo stadio di uscita del trasmettitore e il carico equivalente che il più possibile deve essere uguale appunto a 50 ohm ho collegato un carico anti induttivo a 50 ohm creato con resistenze appunto anti induttive poi magari in un altro video vedremo che non è propriamente anti induttivo dipende sempre molto dalla frequenza e in uscita la sondina di carico quindi il diodo e il condensatore collegato al nostro multimetro in continua con la sola portante abbiamo 7.7 volt in continua ora con un cacciavite in plastica andiamo a operare sul compensatore prima ramo serie poi ramo parallelo e vediamo di massimizzare questo valore 680 giriamo un pelo ecco vedete che sta salendo 10 volt 4 e poi di qua di nuovo scende quindi il massimo è in questo punto 10.3 ripeto l'operazione anche nell'altro punto piano piano perché può andare anche molto giù e disadattarsi troppo e potrebbe essere un problema ecco in questo caso direi che è qui questa operazione ovviamente la si può ripetere anche con l'antenna reale che avrà ovviamente un carico diverso perché abbiamo il cavo di collegamento e poi l'impedenza propria caratteristica dell'antenna comunque con questo carico sappiamo che l'uscita è tarata per il 50 ohm facciamo un primo test indoor quindi alimentatore 12 volt riproduzione mp3 cavetto audio in ingresso bf l'uscita della nostra trasmittente è collegata al bnc all'antenna ground plane che è qui fuori sintonizzo il ricevitore fm che ho qui in lab sulla frequenza di 107.6 siamo proprio l'estremo della banda qui sta ricevendo una stazione commerciale e si alza il volume per poco tempo per non avere problemi di copyright sentiremo l'emittente broadcast eccola adesso faremo un test che mentre l'emittente broadcast è in ricezione il nostro trasmettitore andrà a coprire questa frequenza forniamo alimentazione a 12 volt e il circuito assorbe 210 milliampere ho spento emittente broadcast accendiamo se ha mutolito forniamo il segnale in bassa frequenza vai ecco la nostra sigla è trasmessa proviamo ad alzare un po il volume della sorgente eh sì chiaramente se esagero col volume abbiamo della distorsione ok ora non ho nessun segnale in ingresso quindi sto trasmettendo solo la portante a 107.6 mega e se tolgo alimentazione il mio ricevitore radio su andrà a ricevere l'emittente fm broadcast vediamo eccola qua via pronti per un test drive quello che stiamo ascoltando è il segnale in fm che è spedito dal laboratorio e facciamo qualche centinaio di metri in macchina vediamo fino a dove arriva il segnale bene e con questo termina il video su questo trasmettitore in fm casalingo fatemi sapere nei commenti se vi va se vogliamo creare un kit che possa essere replicato per questo tipo di oggetto io vi ringrazio per aver visto il video e come sempre se vi è piaciuto vi è stato utile un bel pollice in su io vi saluto ciao e alla prossima ciao 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 ciao